E quando la musica si ferma, vi dovete sedere, chi resta senza sedia se ne va a casa, ovvero torna dalla propria compagna e ai propri amici. Forza, forza, veloce, veloce, che peccato, come si chiama? Grazie Antonio, ciao alla prossima. Cambiamo musica, andiamo con il secondo brano in fila, tutti i piedi. Balliamo, balliamo, questa è romantica, guardiamo come va, girate intorno e ballate. Roma non fa la stupida stasera. Ancora, ma ballate un po', usate le mani, ballate, ma questo non è, non vorreste ballare. E quando la musica si ferma, dovrete guadagnare posto. Ah, che peccato, che peccato, che rimasta senza. Un applauso, come si chiama? Come si chiama? Pietro. Pietro, io non torna indietro. Era destino, era destino.